C'è l'impegno assunto e la disponibilità annunciata dalla regione Puglia per destinare una parte dei fondi necessari al ripristino della scuola Papa Giovanni XXIII di Trani. Risorse che saranno immediatamente erogabili. A rivelarlo è stato il consigliere regionale Mimo Santorsola, raccontando dell'incontro avvenuto lunedì scorso con l'assessore regionale all'istruzione Sebastiano Leo e con il sindaco di Trani Amedeo Bottaro. Ma gli scenari futuri restano ancora tutti da chiarire, in attesa della relazione definitiva del tecnico che rivelerà lo stato di salute dell'istituto chiuso in via precauzionale per verifiche strutturali. E in mancanza del documento, il sindaco Bottaro ha prospettato venerdì scorso alle famiglie degli alunni della Papa Giovanni XXIII delle ipotesi, idee che al momento restano provvisori in attesa della relazione definitiva del tecnico. Intanto in pochi giorni i 300 bambini sono stati smistati in diversi istituti della città. Nello specifico i piccoli dell'infanzia sono stati trasferiti nella vicina madre Teresa di Calcutta. Gli alunni della primaria invece sono stati suddivisi tra la scuola d'annunzio e l'abbovio. Di pari passo è anche partito il servizio mensa. Per il sindaco di Trani è stato dunque messo in moto un meccanismo vincente. Abbiamo affrontato subito di petto il problema e devo dire la verità, grazie alla capacità mostrata da tutti nell'amministrazione, dai dirigenti al dirigente scolastico, ma lasciato me lo dire soprattutto alla pazienza dei genitori, siamo riusciti a trovare in pochissimi giorni una soluzione subito tampone. Abbiamo anche previsto un servizio di navetta dalla scuola Papa Giovanni alla scuola d'annunzio per quei genitori che hanno difficoltà, soprattutto ad esempio lasciano i bambini, la madre Teresa e il figlio più grande invece lo devono portare alla d'annunzio, cerchiamo di venire incontro alle loro esigenze. Abbiamo fatto il possibile, siamo molto vicini a tutte le famiglie, mi auguro che appresso di poter avere anche i dati finali sullo stato in cui si trova la scuola, evidentemente alla scuola Papa Giovanni per cercare di capire anche quali sono le soluzioni che dovranno essere adottate in futuro.